I nomi nepatris e fili e spirito santi amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare di tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Seguidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa la volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus ruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e tino la mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 35, 26 febbraio 1938. Come chi cerca di riconoscere Dio nelle opere sue, Dio si riconosce in essa. Felicità che riceve dall'amore della creatura. Il posto che tiene l'uomo nella creazione è nella stessa divinità, come essa forma le membra a chi vive nel volere divino. Sono sotto l'impero del volere divino, il quale ama, sospira di voler essere riconosciuto in tutte le sue opere. Pare che prenda per mano la piccola creatura e portandola a volo, le addita ciò che ha fatto, quanto l'ha amata in ciascuna cosa creata, e come per diritto vuole essere amato. Amare e non essere ricambiato nell'amore è il suo più grande dolore. Io sono rimasta sorpresa, ed il mio sempre amabile Gesù, visitando la piccola anima mia tutto bontà, mi ha detto Figlia mia benedetta, amare ed essere amato è il più grande refrigerio al nostro amore. Alla felicità del cielo si unisce la felicità della terra, che dandosi il bacio l'un l'altra, sentiamo che anche la terra ci felicita. Portandoci l'amore della creatura che ci riconosce ed ama, ci porta le più belle gioie e la più grande felicità, molto più che quelle del cielo sono nostre, nessuno ci le può togliere. Invece quelle che abbiamo attraverso l'amore della creatura sono nuove per noi e formano le nostre nuove conquiste. Poi, con l'essere riconosciuti nelle opere nostre, la creatura si mette in volo per salire e riconoscere colui che l'ha creata. Per noi, essere riconosciuti è la più grande gloria, l'amore più intenso che riceviamo e con l'essere riconosciuti ci formiamo il nostro esercito, la milizia divina, il nostro popolo. dal quale non esigiamo altro che il tributo di essere amati e mettiamo a sua disposizione tutte le nostre opere per servirlo, abbondandolo di tutto ciò che può renderlo felice. Se le creature non ci riconoscono, restiamo come il Dio senza esercito e senza popolo. Com'è doloroso mettere tante creature alla luce del giorno e non avere né un esercito né un popolo. Ora ascoltami ancora. Come la creatura ci riconosce nelle cose create ed ama, così suggella in esse una nota di amore e di felicità per il suo creatore e salendo a riconoscere il suo creatore essa conosce noi e noi riconosciamo il nostro essere divino in esse. E se tu sapessi che significa riconoscersi a Vicente? Il nostro amore amato si rappacifica ed ama più intensamente quello che lo ama e giunge a tale eccesso che per riconoscersi nella creatura crea se stesso, ma per far che? Per riconoscersi in esse ed essere amato. Com'è bello quando riconosciamo noi stessi nella creatura. Essa diventa per lei il nostro trono, la nostra stanza divina, il nostro cielo. I mari del nostro amore la inondano. I suoi più piccoli atti formano onde d'amore che ci amano, ci glorificano, ci benedicono e ci riconosce in noi, ci riconosce in se stessa, ci riconosce in tutte le cose create. E noi la riconosciamo in tutte le opere nostre, nel cielo, nel sole, nel vento, in tutto. Il nostro amore è unito al nostro fiat. Ce la porta ovunque e la mettiamo in ordine nelle opere nostre. Dopo ciò la mia povera mente continuava a nuotare nel mare del volere divino. Mia Dio, quante sorprese, quante meraviglie! Ed il mio dolce Gesù, visitando la mia piccola anima, tutto inondato nelle sue fiamme d'amore, mi ha detto Figlia benedetta della mia volontà, il mio amore non mi dà pace se non mi fa dire nuove sorprese del mio fiat divino. Vuole farti conoscere la sublimità, la nobiltà ed il suo posto che occupa tanto nella creazione quanto nel nostro essere divino, per chi vive nel nostro volere divino. Ora tu devi sapere che nella creazione occupa il primo posto. Tutte le cose create si sentono così collegate, insieme ed unite, che diventano per essa come sue membra inseparabili. Sicché il sole è membro suo, l'estensione del cielo, il vento, l'aria che tutti respirano, è membro suo. Tutte le cose create si sentono felici, onorate di essere membra di questa fortunata creatura e chi le fa da cuore, chi da mano, chi da piedi, chi da occhio, chi da respiro. Insomma non vi è cosa creata che non tiene il suo posto distinto ed esercita l'ufficio di membro in essa. E la sua anima, come capo, tiene in ordine le sue membra e dà a Dio tutto l'amore, la santità, la gloria e tutti i beni che le cose create contengono, molto più che tutte le cose create, sono pure membra nostre. Sicché, per chi vive nel nostro volere, le membra sue sono le nostre e le nostre sue, le quali tengono in comunicazione il nostro essere supremo con la creatura e noi diventiamo per lei più che sangue che circola nelle vene dell'anima, palpito continuo d'amore che palpitiamo nel suo cuore, respiro divino che respiriamo nella sua anima. E noi amando con amore eccessivo questa più che celeste creatura mettiamo in circolazione nel nostro essere divino il suo piccolo amore, i suoi anti. Siamo gelosi del suo palpito, del suo respiro e lo chiediamo nel nostro. Nulla esce da essa che non resta chiuso in noi per contraccambiarla col nostro amore e per sentire il suo gradito e dolce ritornello ti amo, ti amo, ti amo. Sicché in chi vive nel nostro volere vediamo la continua catena d'amore che mai si spezza ed il nostro amore ha il suo appoggio dove appoggiarsi per poter dire incessantemente ti amo, ti amo, ti amo. Il nostro amore quando non trova l'amore della creatura resta sospeso e dà in grido di dolore quasi volendo assortare la creatura per dirle perché non mi ami. il non amarci è la ferita più crudele per noi. Ma ciò non è tutto ancora. il nostro amore se non dà nell'eccesso non si contenta. Vuoi sapere perché facevamo della creazione tante membra che dovevano servire come membra nostre e membra della creatura? In ogni cosa creata mettevamo i nostri doni la nostra santità il nostro amore come portatori di ciò che volevamo dare ad essa e come riportatori di ciò che essa faceva per noi. Tutte le cose create sono zeppe e depositarie di tutto ciò che volevamo darle. Il cielo con la molteplicità delle sue stelle simboleggia tanti i nostri atti nuovi e distinti che volevamo darle. Il sole simboleggia la nostra luce eterna con cui la vogliamo inondare il suo calore ed effetti che possiede il nostro amore che vuole quasi affogarla per farle sentire quanto l'amiamo. E negli effetti le nostre svariate bellezze con cui volevamo investirla. Nel vento mettevamo in ogni soffio i nostri baci le nostre carezze amorose nelle sue onde impetuose il nostro amore imperante per travolgerla con le nostre strette ad abbracci da renderla inseparabile da noi. Insomma, ogni cosa creata possiede ciascuna i nostri doni da dare alla creatura ma chi li prende solo chi vive nel nostro volere. Posso dire che esse sono pregne dei nostri doni ma non possono darli non possono fare da portatori perché non trovano chi vive nel nostro Fiat divino il quale tiene virtù e potenza di metterla in comunicazione con tutte le opere nostre più che membra sue e col suo stesso creatore più che vita sua. Quanti prodigi inauditi metteremo fuori dal nostro seno divino per chi farà regnare la nostra volontà. Le nostre opere canteranno trionfi e vittorie e da piene mani largheggeranno nel dare i doni i beni che posseggono del loro creatore. Tutti saranno felici chi dona e chi riceve. Perciò sia attenta a netti curare di nulla se non di vivere nel mio volere perché tengo molto da darti e tu da ricevere. Io sono rimasto sorpresa nel sentire tutto ciò che diceva tra me ma è possibile tutto ciò che ha detto? Ma pare incredibile e Gesù il mio dolce Gesù ha soggiunto. Figlia mia non ti meravigliare tu devi sapere che tutto ciò che facemmo doveva servire alla creatura che doveva possedere come vita la mia divina volontà e ciò era necessario al nostro decoro sapienza potenza e maestà nostra. Ora la creatura col sottrarsi della nostra volontà giustizia volle che ritirassimo da lei ciò che doveva servire come conveniva la nostra maestà suprema e la creatura rimase come il capo che non avesse le membra. Povero capo senza membra che cosa poteva fare di bene? È vero che il capo tiene la supremazia sulle membra ma senza le membra il capo non può fare nulla senza vita senza opere. Ora volendo ritornare il mio volere nelle creature il mio amore vuole esige che siano restituite loro le membra non solo ma la stessa vita di colui che le ha create la nostra volontà regnante metterà in vigore tutte le opere sue e restituirà alla creatura ciò che perdette col fare la sua volontà la quale è devastatrice di tutti i beni spezza tutte le comunicazioni con le opere nostre con il suo stesso creatore e si rende come un osso spostato che perde la comunicazione con tutte le sue membra che serve solo a dare dolore ecco quando Gesù le scrive in questi termini così emblematici anche se oltremodo drammatici se uno ci pensa bene i danni che fa la volontà umana anzi le devastazioni perché le chiama la devastatrice è impossibile resistere alla tentazione di cominciare la meditazione per forza dal punto d'arrivo cioè che è la parte più negativa tra l'altro dopo tante cose belle che abbiamo ascoltato c'è appunto questa cosa qui cosa ci siamo persi col fare la nostra volontà tutto quello che viene prima poi lo vedremo non ci fermiamo ovviamente qui e che viene prima che viene prima poi lo vediamo ma intanto che cos'è sta volontà umana devastatrice di tutti i beni pensiamoci ogni tanto a queste cose la meditazione serve a pensare la differenza tra la meditazione e la lettura è che uno non solo legge ma si sofferma un po' pensiamoci devastatrice di beni quanti beni ci siamo già sprecati abbiamo già buttato alle ortiche una disgrazia grossa una grossa assai perché il nostro signore non si fa superare in generosità non si fa superare in generosità però purtroppo purtroppo un sacco di roba non l'abbiamo mai avuta speriamo che arrivi in futuro l'abbiamo perduta è roba buona dicono dalle nostre parti roba bella roba santa non solo spezza tutte le comunicazioni con le opere nostre cioè noi siamo immersi e questo ricordiamolo sempre di più adesso è inverno l'inverno è speculare un pochino all'estate nell'inverno ci sono le bellezze proprie dell'inverno chi ha la fortuna di stare un po' sulla neve adesso gennaio febbraio e marzo per molti per molti per molti pochi non lo so è tempo di fare qualche full immersion in questi gigli bianchi che sono i monti nevati le rocce questi spettacoli questi continui film molto più che film che il nostro signore come soggetto lui fa il soggetto la sceneggiatura e la regia le cose create fanno gli attori ma tutta quanta roba fatta per noi la casa di produzione di proprietà attenzione è anche produttore ovviamente altissimo produttore produttore esecutivo fa tutto lui ma quella quella che la fabbrica di produzione fa solo capolavori quindi film da super oscar quindi da prenderli tutti quindi migliore regia migliore attore protagonista tutti quanti tutti tutti miglior film tutto tutto quanto e fa in continuazione è solo che capite anche quando ci stanno i film i film umani ci vogliono gli spettatori perché se uno fa un film stupendo e non se lo vede nessuno che l'ha fatta a fare come dire proprio il fine di un'opera del genere è andare a provocare il diletto di chi poi la vedrà la volontà spezza le comunicazioni con le opere nostre è come se uno ci avesse una filmoteca inesauribile dove potrebbe starsi a deliziare proprio alla grande e non vede un tubo tali ramingo impalato annoiato e non si vede niente non solo vengono spezzate le comunicazioni col creatore che è la cosa ben più grave non si non si percepisce la presenza di Dio il nostro intelletto non è illuminato dalla sua luce quindi il scendimento zero gioia che viene dalla presenza sua e dalla consapevolezza di quanto ci ama zero pace zero vita da schifo ok da cani soggezione la più basse e becere passioni ecco qua c'era un programmino a meno e caruccio dell'indimenticabile corrado mantoni oggi non lo so la mia testolina strana sta in vena di riferimenti filmografici e televisivi boh isteri ovviamente queste non sono cose come sempre assolutamente pensate in preventivo corrado mantoni faceva questo programmino che si chiama il pranzo è servito eccolo qua il pranzo è servito il pranzo è servito da quel gran fenomeno di cameriere che è la nostra malavolontà bello guarda un vomito proprio assoluto guarda altro che bermi e larve e grilli che adesso vorrebbero farci mangiare è molto peggio sterco e letame più acqua di fogna buono eh e dulcis in fundo che insomma ci manca poi il dessert si rende come un osso spostato quando ci si è sposto un osso è un problema anche questo se qualcuno qualche volta ce l'ha avuto magari ci vuole pensare il osso spostato è un guaio perché? perché perdendo la comunicazione con tutte le mie non sta a posto suo non sta a posto suo non sta a posto suo guaio di guai che cosa fa? dà dolore e non serve nient'altro che dare dolore non fa quello che deve fare se lo fa star male basta come no? chi c'era? il pranzo col dessert attenzione questa roba se la magna la praticamente quasi totalità degli esseri umani appunto si dice quasi perché c'è qualcuno rarissima eccezione e attenzione tra questi ci sono molti battezzati quindi molti insegniti della dignità dei figli di Dio molti che hanno ricevuto in dono la grazia la fede la speranza la carità che sono figli della chiesa che avrebbero a disposizione i sacramenti la pienezza della verità che la chiesa ha possiede e che non può certamente essere mai oscurata né messa in discussione da qualche stupidaggine proditoriamente superbamente contingentemente magari poferita da chi si pensa e Dio lo perdoni ma non lo perdona di essere più grande e al di sopra del padre eterno no? quindi ma questo non c'entra niente con la chiesa mi raccomando né col fatto che la chiesa è definita giustamente da san pietro la colonna della verità la chiesa è la colonna della verità nella chiesa ci sono la pienezza dei mezzi di grazia e si troveranno sempre eppure molti figli di Dio puffete altro che il figlio del prodigo che si mangia le carrube dei porci molto peggio allora andiamo a vedere quello che ci siamo persi adesso dai un attimo e poi chiudiamo numero uno amare ed essere amato è il più grande rifiugio al nostro amore qui anzitutto le cose vengono restite da parte dell'altissimo l'abbiamo visto questo riverbera anche un po' ieri la felicità del cielo ci unisce la felicità della terra e la cosa più bella che Gesù dice al riguardo di questa prima sezione è questa dice ma le gioie del cielo sono nostre nessuno ce le toglie la gloria essenziale a Dio non gliela tocca a nessuno l'abbiamo già visto ieri ma quelle che abbiamo attraverso l'amore della creatura sono nuove per noi e formano le nostre nuove conquiste certo che sono nuove figlioli miei cari io sono io e tu sei tu perdonatemi ma io il mio amore lo do a chi voglio scusate io amo chi voglio nessuno mi può obbligare a a farsi amare e come ci siamo detti infinite volte il mio modo di amare l'amore è unico ma i modi di amare sono infiniti il mio e il tuo attenzione quando dico il mio non voglio speriamo pregate sempre perché diventi umidi e che non sia troppo superbo che già lo sono abbastanza ahimè purtroppo con mio sommo dispiacere e vergogna però quando dico mio non è che intendo dire il mio cioè facciamo finta anzi non facciamo finta è così che chiunque ascolta quel mio ci si metta lui o lei e se tu quest'amore a Dio non glielo dai e lui questa cosa non non lo avverte il tuo amore perché non è che qualcuno può avvertire il mio amore se io non lo amo il mio amore lo avverte colui o colei che io amo e a cui glielo do glielo faccio sentire e questa è una scelta questa qui per cui se io rifiuto il mio amore a Dio lui questa cosa lo dico tremando lo dico però è la verità non la conosce la conosce certamente in linea teorica perché lui sa come è la mia modalità di amore però non la vive perché non glielo do a lui non glielo do se non lo amo e Gesù aggiunge anche che dove stava qui dice le creature come non ci non ci riconoscono e non ci diamano restiamo come il Dio senza esercito e senza popolo com'è doloroso mettere tante creature alla luce del giorno e non avere né un esercito né un popolo e più avanti faccio un jump di diversi capoversi aggiunge il nostro amore quando non trova l'amore della creatura resta sospeso da un grido di dolore quasi volendo assordare la creatura per dire perché non mi ami il non amarci è la ferita più crudele per noi guarda fratello mio guarda sorella mia guarda amico mio guarda amica mia io te lo dico ma anche te lo dico io faccio come sempre la cassa di risonanza sguagliata e pasticciata di quello che dice nostro signore d'accordo cerco sempre di non inventarmi nulla di mio perché sono assolutamente convinto che di quello che è mio il mondo ne può fare assolutamente almeno anzi campa molto meglio campa nel mio intento nel mio cuore c'è sempre la volontà e l'intenzione di farmi da cassa di risonanza semplicemente quindi da eco strampalato a causa dei miei limiti non perché vorrei farlo ma purtroppo così è di quello che viene dall'altissimo di quello che dice lui quindi sappi che se tu cioè che l'amore che hai tu non glielo può dare nessuno a Dio c'è qualcosa che noi possiamo dare a Dio che non glielo può dare a nessuno al posto nostro e chiede il nostro amore è la nostra volontà capito? come ci ricorda il libro di Tenera Amata una delle cose divertenti molto divertenti del paradiso è che ci saranno come dire questo è una rivelazione uno ci può non credere ovviamente no cioè che Dio ha creato una rete di amori una rete di amori stabiliti da lui nel creare le creature che purtroppo qui a causa di quel maledetto di quel maledetto non essere perché non è un essere non essere ma è un maledetto del peccato originale qui ce lo siamo praticamente giocato al 99,9 periodico per cento che è peccato originale ma nell'eternità creata in paradiso no non è così e conoscere tante forme di amore differenti sarà un godimento immenso e uno dice ma scusa ma basta l'amore ma uno se c'ha la visione beatifica basta basta quella no di per sé sì ma anche a Dio di per sé basta la gloria essenziale e allora come è che poi cerca dell'amore della creatura se c'ha già tutto è nell'ottica di un di più è nell'ottica di un di più perché cioè le prorogative divine sono questa infinitezza se uno conosce Dio fa proprio strike perché lì c'è una sorgente è un pozzo senza fondo un pozzo senza fondo lo dice anche nella meditazione di oggi pozzo senza fondo beni senza fine felicità sempre nuove una catena d'amore dice Gesù che continua che non si spezza noi amando con amore eccessivo questa più che celeste creatura cioè Dio è l'amore di Dio è eccessivo il nostro amore dice Gesù se non dare in eccesso non si contente esagera o c'è soltanto una cosa in cui si può esagerare sapete che voi mi raccomando la santità consiste in misura equilibrio sempre in tutte le cose sempre misura ordine equilibrio ma l'amore per Antonomasi l'amore l'amore è esagerato l'amore è in eccesso se l'amore è amore d'è in eccesso è perché l'amore è divino Dio è così Dio esagera dici ma tu sei esagerato vai ammesso tutti i giorni sei esagerato è certo che sei esagerato ma sono sempre meno esagerato di quanto hai esagerato io nei miei confronti che hai esagerato cioè cioè ragazzi chi va ammesso tutti i giorni non è che fa favore al Padre Eterno perdonatemi lo fa se stesso lo fa perché quello che si riceve partecipando a una mese dicendo una comunione ma c'è male è quello che possiamo dare al Signore stando lì facendo bene la comunione ricambiando d'amore ricambiando d'amore nella comunione è il paradiso sulla sulla terra cioè quando si entra in questa ottica andare a messa tutti i giorni per chi può ovviamente non voglio fare gli scrupoli e la persona inizia a dire ma io non ci posso andare che faccio peccano a parte che non si pecca ma non ti preoccupare cioè scusate quando una persona ama se la persona ama vuole starci con l'amato quando due persone anche un marito e una moglie non vogliono stare più insieme cioè quindi meno se vedono e meglio stanno vabbè dicevo un pochetto purtroppo dormimo insieme quindi vabbè siamo una famiglia quindi a pranzo e cena vabbè però se è soltanto uno dei due meglio ma oggi è domenica mi tocca stare un po' mi tocca pure una se a farsi una passeggiata e vabbè ci tocca ma non va bene così no quello non è amore perché l'amore è che quando cioè non vede l'ora diceva come sono cinquant'anni che siamo sposati ha posto un sv2.000 se ci sta l'amore così è quando questo non c'è l'amore non c'è quindi e non finisce mai dicevo ma sono stata ammessa per tre anni mi sono fatto una bella tripata dicono allora ma non basta però eh ma nessuno sarebbe così forte da tirare una cosa del genere ah mi sono già detto diecimila rosale adesso basta però eh ma lo sarebbe lo stesso lo sarebbe cioè la preghiera per chi ama ma la preghiera non è un pensum la preghiera diventa paradossalmente certo che è ordinariamente un'opera penitenziale ma diventa un piacere cioè vi posso dire che a me dispiace soltanto di non avere la giornata più lunga per poter pregare con più calma perché cioè chi prega chi è fortunato come un sacerdote può pregare con i salmi specialmente i salmi in latino se uno stesse in monastero che si li può cantare in gregoriano e ci mette venti minuti a fare un'ora canonica e se li gusta piano piano che ci canta sopra ma è il sogno nel cassetto che non sa verrà mai probabilmente insomma no perché perché è la cosa più bella che esiste le parole dei salmi sono qualche cosa di meraviglioso sono canti d'amore sono bellissime sono è solo che se ti metti a fare così addio meditazione sulla divina volontà addio catechesi addio messa in pubblico addio incontri con le persone addio tutto perché fa un altro la mattina e la sera ma non è una fatica almeno la percepisco così però mi sembra che queste cose la confezione ah ti sei fatto prete mi ricordo i primi tempi che non è diventato andavano a prendere di petto buonanima dinamatici ma che ha fatto tuo figlio ma come è tanto intelligente ma c'ha la laurea ma c'è la fidanzata ma che sei impazzito figuriamoci io stavo al settimo cielo io ero la persona più felice del mondo non capivo più niente i primi anni che la luna di miele è appena entrata in seminario è durata due o tre anni è durato io stavo io vivo in un'altra dimensione stavo fuori dal mondo stavo e la gente pensava poveraccio questo chi lo sa chi ha piato sarà caduto in depressione forse l'ho lasciato la fidanzata veramente anche no perché la fidanzata l'ho lasciata io e per questo motivo per un amore più grande incommensurabilmente più grande io con lui lo so perché l'ho vissuto in prima persona e io ero innamorato della mia fidanzata manco poco ma è stata una cosa così cioè è come se tu prendi che ne so oggi stiamo in vena cinematografica no che ne so ti prendi un gigante un attore un fenomeno rispetto a un pivellino che sta facendo la scuola di recitazione no eh no non possono competere no è è incommensurabilmente più grande quindi vabbè quindi c'è l'orizzonte dell'amore ma questo amore no quell'amore con cui uno si sciacqua la bocca con amore misericordia che 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 a sentirli pronunciare detti in un certo modo anziché fatte venire voglia le fanno venire il disgusto non c'è quindi l'amore questo di cui ci parla Gesù questo è è la svolta della svolta della della vita e questa è la vita della di una volontà amici miei cari quindi siamo arrivati quasi alla fine siamo quasi a Dama qui stiamo nel mio versione digitale pagina 78 ci mancano circa tutti sono ma neanche una una decina di brani alla fine del del 35 1 4 5 6 7 8 e 9 9 brani viene del 35 poi abbiamo il 36 poi abbiamo finito quindi mi raccomando se non abbiamo se non abbiamo ancora capito certe cose non è che più tanto tempo quindi ecco bene amici grazie a tutti Grazie. Grazie a te, Signore Gesù, per tutte le cose meravigliose che ci doni, che ci dici. Concedici le grazie di per vivere in questo modo, siamo quasi arrivati, quindi di cambiare rotta o cambiare marcia, di cominciare a innescare un bel po' di questo amore, fermare quella pazza della volontà umana che abbiamo visto quello che combina e riconnetterci con te e con tutte le altre opere che hai creato per noi e che sono un canto interrotto e continuo di amore. Nella Divina Volontà, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque, nella Divina Volontà, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.